Buongiorno bambini, stamattina vedremo il passaggio dalla Repubblica all'Impero. Sì perché vi ricordate dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al triunvirato, cioè al governo di tre uomini, Marco Crasso, Neo Pompeo e Giulio Cesare. Alla fine era rimasto al potere solo Giulio Cesare che però era stato ucciso nel 44 avanti Cristo. Vediamo come è andata avanti la storia. Cesare dette il potere al suo figlio Ottaviano, ma rivendicava il potere anche Antonio, un suo sostenitore. Così i due si unirono a un altro uomo ancora, anche lui sostenitore di Cesare Lepido e formarono, guardate un po', il secondo triunvirato. Quindi ancora tre uomini al potere, Ottaviano, Antonio e Lepido. Cosa fecero? Beh, allora, in realtà decisero di dividersi le province romane. Ad Ottaviano toccarono i territori occidentali, quindi la Spagna, la Francia, la Germania, come si vede dalla cartina, l'Italia. All Lepido la piccolissima provincia dell'Africa, vedete solo la parte verde, ad Antonio invece tutta la parte gialla, la parte orientale dell'Asia. Alla fine però cosa successe? Lepido, che aveva pochi territori, fu sconfitto rapidamente. Antonio, che era vicino all'Egitto, si legò alla regina Cleopatra, ma nel 31 avanti Cristo fu sconfitto da Ottaviano, il quale prese tutti i poteri su di sé. Divenne tribuno della plebe, proconsole, capo militare e pontefice massimo, cioè ottenne anche poteri religiosi. E nel 27 avanti Cristo si prolamò imperatore, con il nome di Ottaviano Augusto. Infatti a Roma iniziò l'impero. Ecco qua, 27 avanti Cristo inizia l'impero. Il primo imperatore è Ottaviano Augusto o solo Augusto, che governò guardate un po' fino al 14 d.C. Abbiamo superato l'anno zero. E lui cosa fa? Conquistò nuovi terrisori, poi riorganizza l'esercito della flotta e mette fine alle guerre civili. Infatti questo periodo fu un periodo di pace e c'era testimonia un monumento che esiste tutt'oggi, l'Ara Pacis, che si trova a Roma, cioè l'altare della pace, perché il periodo di Ottaviano Augusto imperatore fu un periodo di grande pace. Ecco qua.